Dopo settimane di attese il Consiglio Comunale nei giorni scorsi ha votato anche la mozione che avevano presentato i consiglieri Francesca Reale e Giuseppe Santocono sull'ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio, mozione quella di Reale e Santocono che in realtà chiedeva poi anche il no a qualsiasi tipo di ampliamento di discarica. Diciamo Consiglio Comunale che alla fine è stato un'anima anche sulla vostra mozione, un segnale di collaborazione? Esattamente, io le devo fare però un piccolissimo excursus per dare modo ai cittadini che ascoltano di capire quello che è stato consumato nel corso di questi due mesi. Noi abbiamo insieme al consigliere Santocono presentato una mozione di indirizzo con la data del 20 marzo e il Presidente del Consiglio ha indetto l'ultima conferenza dei capigruppo in cui inseriva questa nostra proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è consumato pochi giorni fa e l'atto invece amministrativo che poi è un atto di indirizzo tale e quale al nostro è stato inserito precedentemente come punto principale rispetto al nostro. Ecco, io avevo chiesto semplicemente che questo punto venisse estrapolato e venisse trattato come primo punto all'ordine del giorno vista la delicatezza e l'importanza dell'argomento. Questa cosa mi è stata negata e il Presidente ha detto, ha dato come soluzione possibile il fatto che comunque era logico e conseguenziale rispetto ad una legge regionale che gli atti amministrativi venissero messi prima rispetto alle mozioni, alle richieste, alle interpellanze che potevano venire da parte dei consiglieri comunali. Ecco, io in Consiglio Comunale però devo dire che sono stata molto rammaricata dell'atteggiamento del piccolo intervento che ha fatto il consigliere Caracciolo in merito alla vicenda perché all'inizio proprio si è alzato chiedendo che l'atto di indirizzo dell'amministrazione venisse trattato come primo punto all'ordine del giorno. Ovviamente loro hanno la maggioranza, hanno i numeri per poter votare gli atti e quindi questa richiesta è stata diciamo resa valida. Si è votato l'atto di indirizzo, io tra l'altro avevo fatto una richiesta che avrei votato favorevolmente e qualora nell'atto di indirizzo dell'amministrazione venisse inserita questa postilla del dire no a possibili altre discariche che magari potevano sorgere nel nostro territorio. Il sindaco si è passato direttamente a una votazione, oserei dire, repentina. Non ho avuto modo nemmeno di rendermi conto di questa votazione al che ho fatto la richiesta di una posizione esplicita da parte dell'amministrazione. Il sindaco mi ha detto, ha risposto diciamo al consesso civico che voleva dare una risposta ma in realtà questa risposta non è stata prodotta. Ecco io dico con grande rammarico che mi sarei aspettata da parte di questa amministrazione una posizione diciamo diversa in merito alla vicenda perché a prescindere dagli atti amministrativi o delle mozioni di indirizzo che vengono presentati, quando si parla di interessi comuni io avrei gradito da parte dell'amministrazione magari la richiesta dell'accorpamento dei due punti e la trattazione diciamo unica di questo punto che poteva vederci solidali alla maggioranza. Infatti la mozione fondamentalmente era uguale, l'atto di indirizzo era identico, quindi la votazione poteva essere all'unisono diciamo tra maggioranza e opposizione, cosa che invece non è avvenuta. E dico con grande rammarico perché non appena si è arrivati alla trattazione del nostro atto di indirizzo, il consigliere Caracciolo ha esordito in un intervento dicendo che questa mozione in realtà poteva anche essere bypassata e non votata dal consesso civico in quanto era già stata trattata precedentemente. E allora c'è stata una forte discrepanza, a quel punto ho dovuto chiedere ulteriormente la parola al presidente del consiglio per evidenziare che alla fine quello che loro avevano votato negativamente e non avevano preso in considerazione era quello che in realtà poi il consigliere Caracciolo sottolineava successivamente. E allora mi chiedo che anche coloro che erano presenti sicuramente avranno capito che l'amministrazione voleva sicuramente fare un atto di prevaricazione nei confronti di una parte di opposizione, dico una parte di opposizione perché per poi andare a una votazione all'unisono perché non si poteva sicuramente votare diversamente. Poi per quanto riguarda l'altro punto diciamo toccante... Alla fine comunque consigliere Santogona, alla fine poi comunque sia la mozione presentata dall'ammaggianza che quella presentata da voi, insomma alla fine ha ricevuto il voto unanime da parte dell'Aula insieme quindi sostanzialmente poi insomma su questo tema tutto il consiglio comunale sta seguendo la stessa strada. Sì, sì, indubbiamente perché logicamente è una materia che riguarda tutta l'intera cittadinanza e non solo. Parliamo anche di Carlentini, parliamo di Augusta, di Scordia. Questa è una cosa che interessa tutto un territorio. Volevo esattamente precisare una cosa. Il consigliere Marchese ha fatto un intervento in consiglio comunale il quale evidenziava che noi consiglieri eravamo presenti a una conferenza fatta dal sindaco. Abbiamo preso spunto e in più abbiamo aggiunto solamente che il consiglio comunale si impegna ed impegna altresì la giunta municipale a porre in essere ogni iniziativa istituzionale, legale, politica e amministrativa allo scopo di denegare le necessarie autorizzazioni amministrative all'esicolo a trasporti e a tutte le aziende, ditte e consorzi che presentano richieste di autorizzazione e di empleamento. Questa il sindaco non l'aveva precisata e noi nella nostra mozione gliel'abbiamo inserita. Consigliere Reale, tuttavia stavamo dicendo in consiglio comunale si è assistito un po' a una scena, come dire, la minoranza che poi insomma voi due, Santogone e Reale, avete preso posizione su altri banchi della minoranza è stata un po' come dire una frattura all'interno dello stesso gruppo di minoranza. Cosa succede a proposito di cosa? Ma c'è stata la trattazione di un altro punto fondamentale, nodale all'interno del Consesso Civico e cioè l'elezione di due membri, di due consiglieri comunali che dovranno andare a far parte dell'entourage per l'elezione appunto per la costituzione degli elenchi della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello. Ecco, la votazione è stata chiara e determinante perché noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio nonostante ci dicesse che non era il caso di farla abbiamo voluto diciamo rendere palese il nostro voto visto e considerato che comunque anche per questo argomento non c'era stato un ragionamento e un'apertura da parte dell'amministrazione che magari potesse convergere in due nominativi comuni. Detto questo io ho preso la parola dicendo che io e il consigliere Santocono avremmo votato appunto per Santocono. di contropartita la consigliera Cunzolo aveva dichiarato che avrebbe votato scheda bianca quindi il Consiglio Comunale si è espresso con due nominativi che sono stati appunto il consigliere di opposizione Barbagallo e il consigliere di opposizione Renzo Vinci quindi se la matematica non è un'opinione 2 più 2 fa 4 abbiamo tirato le nostre somme. Ecco che appena consumata la votazione sicuramente io ho ritenuto opportuno di sottolineare una cosa fondamentale che magari era diciamo nascosta o si vedeva così si intravedeva all'inizio dell'insediamento del nuovo sindaco ma adesso si è resa palese in questa votazione che alcuni elementi dell'opposizione farebbero bene ad alzarsi anche nei confronti soprattutto di trasparenza della città e sedersi nei banchi della maggioranza.